Relazioni tra il governo albanese e il governo del Kosova, un'analisi approfondita. 1. Le relazioni tra il governo albanese e quello del Kosova hanno sempre rivestito un ruolo di grande importanza per entrambi i paesi, dati legami storici, culturali ed etnici che li uniscono. In questo articolo, esamineremo le dinamiche delle relazioni attuali tra i due governi, focalizzandoci sugli sviluppi recenti e sui principali ambiti di cooperazione. Contesto storico e culturale, l'Albania e il Kosovo condividono una storia comune caratterizzata dalla presenza di una popolazione di etnia albanese, nonché da un legame linguistico e culturale. Durante il periodo del dominio jugoslavo, il Kosovo era una provincia autonoma all'interno della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, mentre l'Albania era uno stato indipendente. Tuttavia, il Kosovo ha dichiarato unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia nel 2008, che è stata riconosciuta da numerosi paesi, inclusa l'Albania. 2. Cooperazione politica ed economica. Le relazioni politiche tra l'Albania e il Kosovo sono state generalmente cordiali e caratterizzate da un sostegno reciproco. Entrambi i governi hanno sostenuto il principio dell'autodeterminazione del popolo kosovaro e lavorato insieme per il riconoscimento internazionale dell'indipendenza del Kosovo. Inoltre, sono stati istituiti diversi meccanismi di cooperazione bilaterale in vari settori, come l'economia, la sicurezza, la cultura e l'istruzione. Dal punto di vista economico, i due paesi hanno sviluppato legami commerciali significativi, con uno scambio di beni e servizi in costante crescita. L'Albania ha rappresentato un importante partner commerciale per il Kosovo, con investimenti albanesi che hanno contribuito allo sviluppo di settori chiave nell'economia kosovara. 3. Integrazione regionale e prospettive europee. Entrambi i governi hanno dimostrato un impegno nei confronti dell'integrazione europea e hanno collaborato attivamente per raggiungere gli obiettivi comuni in questo ambito. Sia l'Albania che il Kosovo hanno avviato importanti riforme per allinearsi agli standard dell'Unione Europea UE e hanno beneficiato di programmi di assistenza e sostegno da parte dell'UE. Tuttavia, è importante notare che ci sono state alcune sfide e tensioni nel percorso dell'integrazione europea. Alcuni paesi membri dell'UE hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla stabilità politica e alla lotta contro la corruzione nel Kosovo. L'Albania ha sperimentato anch'essa alcuni ostacoli nel proprio percorso verso l'UE, ma ha compiuto progressi significativi negli ultimi anni. 4. Sfide e opportunità future. Nonostante i progressi compiuti, le relazioni tra il governo albanese e quello del Kosovo si trovano ancora di fronte a diverse sfide. La questione dei confini, la lotta contro la corruzione, la sicurezza regionale e la tutela dei diritti delle minoranze sono solo alcune delle questioni complesse che richiedono una gestione attenta e un impegno congiunto. Tuttavia, esistono anche numerose opportunità per rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale. Un maggiore scambio commerciale, la promozione del turismo, la collaborazione in ambito culturale ed educativo e una maggiore integrazione regionale potrebbero portare benefici sia all'Albania che al Kosovo. Conclusioni, le relazioni tra il governo albanese e quello del Kosovo rimangono un elemento cruciale per la stabilità e lo sviluppo della regione. Nonostante le sfide, entrambi i governi hanno dimostrato un impegno per la cooperazione e l'integrazione europea. Sfruttando le opportunità disponibili e affrontando congiuntamente le sfide, l'Albania e il Kosovo possono continuare a costruire un futuro condiviso basato sulla pace, la prosperità e la stabilità.